Un po' di tre volte. Mi ricordo quando ero creatore, mamma, aveva un po' di due piatto mettero. Si alza la notte a trompere la farina, facciarsi pronto il primo cuore della mattina. Quando ero venuta dalla maniera, sotto i quarti montava l'antraveglia e quando eravamo lì, tutti bianchi come un'ombromera, avevano un po' di due braccia. E noi eravamo creatori, non tanto per il primo quanto per la peina. Quando eravamo venuti a prendere la peina, mamma si faceva tenendo la porta, come una regina. Sapete quanta fatica era fatta dalla sera alla mattina? E quando eravamo venuti a prendere la peina, non scappavamo presto, come un cagnolero di azze, che avevamo venuti a prendere la peina. Quando eravamo il cuore, non eravamo venuti a morire, e la peina ha cominciato a venire. Speriamo che tutti venivano venuti giù, e alziamo i cilindri, che io sono da giù, non vuole mangiare i piedi. Lo vecchio è la rondelletta. Nessuna è appunto quella come al tempo. E questo è cosa vera. Venne le rondellette a primavera. Da venne non ho capito ancora. Se c'è scritto che venne a primavera alla stessa ora, venne le stesse ore. dell'anno prima sotto al balcone da vicino. Questi anni uniti l'anacchietta di sastretta intaccata e quattro ucchietta l'anacchietta. L'anacchietta è bella da vera come una rosa che sbaglia la primavera. Passa la primavera e l'estate bullo, dimmi giuro, muovono la macchietta e l'anacchietta. Si dà un appuntamento su un po' filo della corrente e parto la mattina per l'Oriente. Dopo l'anacchietta è una malinconia. Quando va a dire l'anacchietta è una macchietta che s'è una macchietta, brutto pensiero, girano per la mente e pensano. Ma quando è un'anacchietta, non ha chiamato un giudocreatore.